GF VIP 7, ecco ascolti della ventiduesima puntata. La settima edizione del Grande Fratello VIP ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con un nuovo episodio serale. Lunedì 12 dicembre, infatti, è andata in onda la ventiduesima puntata dell'attuale edizione del famoso reality show. La trasmissione televisiva è stata ricca di spunti e di momenti importanti, conquistando il cuore del pubblico e la serata Auditel. Infatti, a seguire le vicende dei vipponi sono stati ben 2,854,000 spettatori pari al 22.8% di share, come riportato da Davide Maggio. Un successo quello delle reality show di Canale 5, che ha battuto il film proposto da Rai 1. Ecco tutti i dati Auditel della serata. Nella serata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, su Rai 1 il film Il campione ha appassionato 2. 365,000 spettatori pari al 13,2%. Su Canale 5 dalle 21,52 all'una, 24 Grande Fratello Vip 7 ettari raccolto davanti al video 2. 854,000 spettatori pari al 22,8% di share. Su Rai 2 delitti in paradiso è interessato 1. 240,000 spettatori pari al 6,5% di share. Su Italia 1 Renegades, commando d'assalto intrattenuto 1. 191,000 spettatori, 6,4%. Su Rai 3 riporta raccolto davanti al video 1,665. 000,000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza una. M di 855,000 spettatori con il 5,8% di share. Sulla 7 Graze Anatomy è registrato 439. 000 spettatori con uno share del 2,5%. Su TV 8 la quinta stagione di Gomorra la serie segna 539. 000 spettatori con il 2,8%. Sul 9 gli stivali di Babbo Natale ha raccolto 508. 000 spettatori con il 2,7%. Sul 20 la mummia al ritorno registra 000 spettatori con il percento. Su Iris il colore di Ola ha ottenuto 000 spettatori con il percento. Un nuovo successo per il programma televisivo di Alfonso Signorini che è stato promosso anche al sabato sera e terrà compagnia ai telespettatori durante tutto il periodo natalizio. Il programma di Abba Trage de mine caratterul meu de fier Grazie a tutti